buonasera a tutti questa sera abbiamo un grandissimo ospite vi auguro a tutti buon anno un buon 2023 quindi partiamo bene di con un buon auspicio stasera c'è lucio violino fabbri lucio ciao 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 buonasera buonasera a tutti come stai lucio cosa ci racconti di nuovo di nuovo dipende da dove dobbiamo cominciare perché di nuovo oggi sono andato a fare la spesa vanno tutti quotidianamente visto che domani è festa e in questo momento siamo tanto siamo nel mio studio come puoi vedere lo studio metropolis orico studio dove ho appena cacciato via tutti i musicisti così almeno adesso c'è un po di tranquillità e poi eventualmente dopo ti posso far fare una piccola certo sicuramente certo ecco quindi siamo lucio sei stato anche riduce da molti concerti e sei venuto anche dalle mie parti a corte franca come ti sei trovato esatto benissimo è stata una bellissima accoglienza e fra l'altro l'auditorium era era pieno era sold out e insieme a degli amici abbiamo fatto un concerto in cui abbiamo come dire ripassato rivisitato le mie produzioni più tra le più significative diciamo della mia carriera musicale che ormai è una carriera di che dura da 50 anni quindi abbiamo reinterpretato brani di eugenio finardi di annacci gabber pierangelo bertoli non elencare tutti comunque pubblico si è divertito moltissimo perché secondo me la prima cosa è condividere il divertimento questa è la prima cosa e quindi non è non era un concerto come dire impegnativo dal punto di vista musicale erano canzoni principalmente suonate ben suonate ben cantate anche dal pubblico che conosceva tutti i testi qualcuno visto che guardava sul telefonino per trovare i testi per poter cantare quindi è diventato una bella occasione per per cantare tutti insieme delle canzoni diciamo anche con questa atmosfera natalizia quindi è stato un bellissimo concerto ho visto anche qualche commento mi ha fatto piacere che qualcuno abbia scritto che rispetto ad altri concerti era una situazione molto rilassante quindi mi è piaciuto questa questa descrizione questa definizione perché per me è così noi ci siamo presentati tutti seduti quindi niente di come dire di scenografico nessun tipo di 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 cosa in più rispetto alla musica e alle canzoni la gente ha subito colto lo spirito e e la cosa proprio bella è stata di suonare e cantare insieme beh sicuramente tu sei già una persona molto zen perché io ti ricordo in un live io avevo 15 16 anni calcola che ne ho 37 eravate venuti con la pfm a rodengo saiano sempre in francia corta e mi ricordo che parlai con te che mi avevi dato anche dei consigli sullo studio io essendo un batterista e tu sei proprio una persona che infondi tranquillità quindi un concerto con con la tua presenza secondo me ha un notevole impatto sul pubblico perché un pubblico deve essere a suo agio come poteva essere un franco battiato che metteva a proprio agio e secondo me un concerto deve essere così e poi con i commenti che ti arrivano rilassato vuol dire che la gente si è proprio divertita perché il concerto deve essere un punto di aggregazione ma anche di piacere quindi tu certo certo lucio è di fondamentale importanza prima per la tua carriera fenomenale perché tu sei di cremona e sei stato uno dei sono sono di crema quindi sono ancora più vicino alle vostre zone diciamo e tu cominci anche a entrare nel giro della milano un po di cronostoria che a me fa piacere che l'ospite racconti un po come sei venuto a contatto con la scuola milanese va bene incontri ottimi con gli annaggi con roberto colombo che sarà uno dei prossimi ospiti come stato sì salutami roberto allora sei partito già da nomi che sono arrivati poi successivamente io diciamo la mia storia milanese comincia negli anni settanta e in cui io sono stato invitato a fare un concerto con la mia band appunto era era una band mista metà di crema e metà di milano e quindi c'era questa opportunità di andare a suonare in un teatro a milano fra l'altro teatro dell'arte quindi abbiamo iniziato bene col botto insomma era un bellissimo bellissimo teatro e ci siamo esibiti e io avevo adesso non ricordo 16 anni 16 17 anni e mi sono esibito al violino al pianoforte alla chitarra cantavo quindi non si non potevano non notarmi e chi mi ha notato in quel caso altri più o meno come me diciamo non dico coetanei ma proprio grandicelli di me di cui più il più famoso eugenio finardi oggi all'epoca era un ragazzo come tutti noi che era lì con la sua band a cantare insomma ad esibirsi insieme al suo gruppo mi notano e a quel punto io come dire vengo invitato a unirmi al loro gruppo che si chiamava il pacco ed era un gruppo in cui c'erano bravissimi musicisti diciamo quella che tu hai definito un po la scuola milanese in realtà non era una scuola non si insegnava e non si imparava niente era solo una band a una open band dove si poteva andare a ci si poteva insomma unire oppure potevi anche non esserci non c'era un impegno preciso tant'è vero che non abbiamo mai neanche fatto un concerto però andavamo in questa sala prove in pieno centro a milano che veniva messa a disposizione da una casa discografica che si aspettava che così in questo modo ci fosse nascessero delle idee insomma era una specie di laboratorio dove i musicisti andavano per creare qualcosa di nuovo c'era molto molto molta attenzione da parte della diciamo dell'industria discografica verso la sperimentazione perché avevano già notato che all'estero cominciava a funzionare questo genere un po diverso dal da quello che allora era ormai il vecchio beat degli anni 60 e quindi mettevano a disposizione questa sala dove noi potevamo andare sperimentare in realtà andavamo lì a divertirci e basta perché poi non abbiamo prodotto niente di particolare però ci siamo un po come dire aggregati e alla prima occasione quindi il primo album importante che io a cui ho partecipato vabbè ho partecipato a diversi album però in una maniera più consistente è stato il primo album di eugenio finardi con sempre più grosso coinvolgimento il secondo album che si chiama sugo delle super canzoni dal mio punto di vista musica ribelle sicuramente quella più significativa ma anche la radio perché è un brano che io ho scritto insieme ad eugenio in un momento in cui nascevano le prime radio private è un concetto che adesso un po strano da raccontare o da spiegare però all'epoca c'era solamente la rai con i suoi tre canali e finiranno radio 1 radio 2 e radio 3 poi se uno voleva ascoltare e fra l'altro non trasmettevano nemmeno molta musica se non proprio in fasce orarie molto ristrette e quindi se uno voleva ascoltare diciamo così le novità che arrivavano dall'estero radio lussemburgo è certo era ora radio lussemburgo la notte perché con le onde medie si prendeva di giorno non si prende insomma erano tempi sono cambiate le cose da oggi rispetto a oggi in 50 anni è cambiato tanto adesso tu hai accesso a tutte le informazioni del mondo quindi è anche la musica è diventata una cosa ultra reperibile all'epoca era proprio una cosa che si andava a cercare apposta e diventava quasi una una malattia quella quella di 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 aver bisogno proprio di musica quello che invece oggi forse si tende un po a perdere perché la musica esce un po da tutte le parti ovunque tu vada c'è musica ovviamente c'è musica e musica all'epoca c'era della gran musica quando scopriva quello che si faceva all'estero c'era tanto tanto da da imparare e da imitare ecco diciamo così tra virgolette imitare o riprodurre insomma ma lucio mi è passato un assiste l'etichetta che aveva messo a disposizione questa cantina parliamo della cramps no 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 la cramps è arrivata molto tempo dopo almeno qualche anno dopo l'etichetta era lariston a ok quindi una una casa discografica diciamo totalmente made in italy che aveva nel suo diciamo nel suo roster eh artisti eh tradizionali ma anche sperimentali mi sembra che i mattia bazar incidessero con loro eh e che anche vasco rossi probabilmente i primi tempi i primi lavori avvitava da quelle par forse mi confondo però comunque diciamo c'era c'era molto in interesse a a cercare delle delle soluzioni nuove creative un po come l'ultima spiaggia come quell'etichetta storica l'ultima spiaggia è un po più contemporanea con la cramps sono arrivate subito dopo e sono arrivate ehm tutte e due erano le possiamo come dire connotare perché la la loro finalità era fare musica alternativa mentre invece le altre etichette parliamo dell'ariston per dirne una ma ce sono moltissime eh diciamo la ricordi per dire quella forse più più storica eh la EMI va beh poi c'era la EMI la CGD eh la CBS c'era però insomma prendiamo queste 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 case discografiche più tradizionali principalmente si occupavano di musica leggera e sperimentavano in un campo un po' più progressivo invece poi queste etichette che sono nate qualche anno dopo due tre anni dopo eh si occupavano solo di musica alternativa quindi l'ultima spiaggia ma non solo la baby record la baby record io la definirei molto più commerciale cioè era era un'etichetta indipendente che però aveva come come finalità il massimo dello sfruttamento economico e infatti i loro prodotti hanno fatto il giro del mondo cioè lì fanno capo a un un imprenditore eh Freddy Najar il fondatore diciamo così della baby records che era uno che vedeva molto molto lontano a livello di business e quindi investiva negli negli artisti più pop noi ovviamente noi tutto quello che facevano queste questo tipo di etichette lo consideravamo una cosa assolutamente inascoltabile e quindi si viveva un po' nel nostro mondo dove comunque eh ci andava bene solo quello che suonavamo noi oppure quello che arrivava dall'estero ma quello che succedeva in Italia diciamo ci interessava molto poco e tu in quel periodo di lì hai vissuto la Milano che io ho sentito in tantissimi racconti anche con Alfredo che io sono stato suo allievo per anni un golino mi ha raccontato di di queste cose quindi è stato un'epoca per voi fondamentale ma una cosa che a me ha sempre affascinato della tua musica e del tuo eh com'è che si può dire ehm approcciarti tu sei passato dal proga alla contemporanea alla classica però hai fatto un album che è bellissimo e ti volevo chiedere qui che ricordi hai e com'è stata recitar cantando con Stratos come è stato l'incontro con Demetrio Stratos e che ricordi hai tu di quest'uomo perché è un idolo io ho avuto l'opportunità di intervistare Tofani il figlio di di Capiozzo Fariselli che ricordo hai e come sei entrato in contatto con con Demetrio guarda in comune con Demetrio avevamo la casa discografica che appunto era la Crams io avevo appena pubblicato il mio primo disco a Marena mio primo e unico disco a Marena ehm c'è stata questa questa richiesta da parte della della diciamo la manifestazione che si svolgeva nella provincia di Cremona eh in cui mi hanno mi hanno invitato e mi hanno detto però sarebbe bello se tu venissi insieme a Demetrio Stratos all'epoca le cose si facevano con una certa facilità insomma non è che io abbia dovuto insistere tanto appena eh appena è arrivata la richiesta è stato un attimo contattare Demetrio con Demetrio con cui eh eh ovviamente avevo avevo passato altro si avevo un rapporto abbiamo passato tante come dire tanti viaggi assieme spesso io suonavo prima degli area perché accompagnavo Eugenio Finardi eravamo in due e promuoveva si promuoveva il primo alb il primo e il secondo album di Eugenio prima degli area per cui anche molto a rischio e pericolo perché quando si sale in due prima di un gruppo di quel genere lì in quel periodo in quel contesto si rischiavano veramente i pomodori le verdure le cose e invece devo dire che ce la siamo cavata abbastanza bene insomma non hanno mai tirato niente di particolare ho visto gente anche più blasonata a ricevere molti più omaggi da parte del pubblico che non quel quei borbotti magari eh che si prendeva io e Eugenio poi bastava cominciare e poi stavano tutti zitti ad ascoltare quindi quello era un po' la fotografia dell'epoca poi arrivavano gli area ovviamente facevano il loro concerto e stavano tutti a bocca aperta perché erano un gruppo assolutamente fenomenale eccezionale sì sì pazzeschi la cosa che unica irriproducibile insomma ancora ecco quindi avevamo questo romano amici insomma ci si incontrava poi era mi ricordo una volta addirittura ho incontrato tutti gli area che stavano andando a fare un concerto in uno scompartimento del treno i treni avevano gli scompartimenti all'epoca quindi entro per io stavo andando in realtà al conservatorio di Piacenza loro stavano andando perché nessuno aveva la patente e quindi apro mi ritrovo tutti gli area ma ci conoscevamo tutti quindi era era un momento molto in cui c'era grande comunicazione si stava molto assieme non si perdeva tempo a stare su internet era così era si passava il tempo a comunicare e a suonare soprattutto insieme quindi cosa succede passo la palla la palla alla cramps la cramps spiega Demetrio Demetrio dice subito di sì vado a casa di Demetrio a fare le prove le prove di questo concerto sono durate zero praticamente il tempo di salire in casa chiacchierare cinque minuti di prove e poi ci siamo visti il giorno dopo in questa piazza a cremona gremita pubblico non aveva idea di cosa stava per succedere ma neanche io tutto sommato invece l'unico che aveva un po il polso della situazione era Demetrio che si era portato un enorme libro in ogni pagina aveva delle delle lettere quindi vocale o consonanti scritte o più piccole più grandi e lui si basava su quello e improvvisava improvvisava teneva in mano un cronometro per non perdere come dire il timing della cosa e io col mio violino che gli andavo dietro come se niente fosse quindi una cosa improvvisata assolutamente improvvisata non c'era niente di preparato tanto meno niente di scritto quindi niente musica scritta la musica era quella di quel momento lì abbiamo fatto questa cosa e doveva finire lì invece per qualche mistero qualcuno si era organizzato e aveva registrato tra l'altro con una qualità per ottima epoca sì in analogico due tracce e quindi quando si è scoperto che c'era questo master la cramsa ha deciso di pubblicarlo e abbiamo ancora oggi questo questo disco che è un disco molto molto particolare bisogna avere l'approccio giusto perché ovvio che se uno si aspetta di sentire anche solo delle canzoni diciamo che è fuori strada bisogna aver voglia di sentire qualcosa di diverso dal solito e dimetrio tu hai un bel ricordo presumo che era una grandissima persona era una simpatia unica era proprio era era proprio uno molto molto comunicativo sempre di buon umore bellissimo ricordo di dimetrio e come musicista neanche a dirlo infatti non a caso io ho contribuito a scrivere una canzone che si chiama maestro della voce a lui mi è venuta spontanea insomma non ci sono dubbi che lui sia il vero maestro della voce invece io ho un ricordo che magari ti farà sorridere ero piccolo perché sono dell 85 mi era capitato di rivedere in televisione sai quei programmi sulle reti media sette dove fanno rivedere spezzoni in cui il musicista andava nella trasmissione di mili carluci o di mike buongiorno c'è un video di te e gli annacci con cui tu hai lavorato tantissimo dove tu corri con lui col violino che lo insegui è una registrazione degli anni 80 il brano non me lo ricordo però mi è rimasto impresso anche il tuo modo di giocare perché un violinista si pensa tutto molto impettito invece tu giocavi anche con gli annacci invece come è stato con gli annacci non so quale filmato ti riferisci però se è quello che mi ricordo io a un certo punto non solo io mi prestavo perché non potevi non prestarti perché lui ti trascinava ti tirava ovviamente non era un'idea mia quella di fare tutte tutti questi questi sketch che avevoli sketch a un certo punto ci organizziamo e decide che lui in diretta televisiva mi prende il violino e me lo distrugge fortunatamente l'abbiamo preparato prima e io mi sono procurato un violino da poco e ho prontamente sostituito il mio violino con un violino per carità di poco valore quindi è sempre un peccato vedere distruggere uno strumento però lui voleva tutti i costi spaccare il violino e ha spaccato il violino in altre occasioni voleva fare appunto questi su e giù queste passerelle e come facevi a dirgli di no ai annacci mica potevi dire di no è una bellissima esperienza perché poi in realtà quando poi lui si è fatto affiancare da gaberr allora i musicisti potevano stare un po più al loro posto e facevano loro i mattacchioni di turno loro due insomma è bello no perché gli annacci un altro grande e tu ci hai lavorato quindi tantissimi artisti anche il cielo di irlanda della mannoia si sente proprio la tua mano proprio il violinista che passa dal country al blues ad un livello con una facilità che non tutti certi violinisti hanno e invece il 79 è anche un anno molto importante per te perché sei convocato con la pfm e da lì parte la tua conoscenza amicizia tutto chiamala come vuoi e dopo tu fai anche la carriera degli anni 80 di cui parleremo un po della premiata come tu sicuramente tu li conoscevi già come siete invece entrati in contatto c'è stato un tramite colombo oppure ti hanno convocato perché vi siete conosciuti così no in realtà anche lì eravamo ci conosceva tutti io diciamo effettivamente rispetto alla pfm ero ero molto più giovane e ancora più ancora molto di più rispetto a fabrizio però sai la vita di tutte le persone è fatta di incontri e da ogni incontro nasce può nascere qualcosa nel mio caso devo dire è stato è stato un incontro con la pfm che non è stato un unico incontro ci si è visti più volte perché sempre torno indietro quello che ti stavo dicendo prima sempre insieme ad eugenio c'era questa questa abitudine di far farci esibire prima degli area oppure prima della pfm oppure prima di fabrizio de andrè un po perché nessuno voleva osava esibirsi prima di questi che all'epoca erano veramente dei mostri sacri e quindi il pubblico era sempre era sempre molto refrattario ad ascoltare qualcuno prima del loro beniamino però noi eravamo così incoscienti che pur di farci vedere promuovere i dischi che avevamo fatto io che eugenio aveva fatto con la mia col mio contributo noi andavamo eravamo piuttosto incoscienti anche perché comunque ci piaceva suonare in giro e quindi cosa succede che sulla base del fatto che eravamo già amici della pfm già amici di fabrizio perché ci si frequentava sai all'epoca si stava tutti in un unico camerino non è che prima dei concerti o dopo i concerti quindi era era una convivenza forzata ma anche una convivenza molto spontanea non c'era nessuno che se la tirava per cui magari stava in disparte lo stesso fabrizio era sempre molto disponibile eravamo nonostante lui forse l'attrazione ovviamente della serata io eugenio eravamo eravamo suoi ospiti e come ospiti ci trattava tant'è vero che più volte ci ha invitato anche a casa lui era un ottimo cuoco quindi andavamo anche nel suo appartamento qui di milano e dove cucinava ci spiegava figurati io arrivavo arrivavo da crema non sapevo niente non avevo quasi mai mangiato il pesce lui spiegava le cozze quelle che si aprono quelle che non si aprono non mangiarle tutte queste cose ho ancora questi ricordi proprio indelebili quasi di infanzia per cui lui comunque grande grande appassionato anche di cucina oltre di tutto perché era una persona molto molto intelligente molto aperta e cosa succede eravamo già ci si conosceva già il caso vuole che la pfm decide di fare di proporre a fabrizio questa 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 avventura fra l'altro mi risulta che fabrizio fosse un po refrattario però di fronte all'idea che fosse una cosa un po strana e anche un po rischiosa mettiamola così perché uno dei due sulla carta poteva anche rimetterci qualcosa invece è stato proprio uno più uno fa due poi alla fine devo dire stato veramente un periodo molto limitato nel tempo perché tutto si è fatto nel giro di un mese più o meno fortunatamente abbiamo registrato sono arrivati all'epoca non era facile registrare un concerto adesso è molto più semplice sono arrivati arrivato un tir da londra con dentro degli enormi magnetofoni 16 piste hanno cominciato a tirare cavi per i teatri tutto tutto quello che serviva uno studio mobile vero e proprio che non si era praticamente mai visto in italia e hanno registrato due concerti più le prove e da lì sono usciti quei due dischi che poi in realtà dovevano essere inizialmente un unico album poi per motivi commerciali hanno preferito venderli separata a me cioè pubblicarli separatamente e quindi abbiamo un primo disco e un secondo disco ma la scelta in realtà non so con che criterio sia stata fatta per me rimane comunque un unico disco perché per noi lo era così come un concerto quindi cosa succede la pfm era di ritorno degli stati uniti erano in un momento un po strano paspartout c'era quel periodo lì stavano per fare qualche cambiamento nell'organico quindi non avevano più il violinista e fabrizio invece aveva molti brani in cui avrebbe voluto avere un violinista poi poteva scegliere chiunque ovviamente però io ero disponibile odio in realtà non ero disponibile perché stavo facendo una tourne molto importante con farlo con roberto vecchioni e a un certo punto mi arriva la telefonata vieni a suonare con pfm di andrea certo vengo ma sto facendo già la tourne di la si dai come come non ho lasciato fare qualche concerto a roberto senza il violino e quindi si è beccato samarcanda senza il violino vabbè però insomma come si può vedere siamo rimasti amici non ostante quello insomma io ho abbandonato una una barca per salire su un'altra barca e anche perché la tourne di roberto stava per finire quindi c'erano pochi concerti ancora da fare e cosa succede mi unisco a quegli altri ci troviamo subito molto bene facciamo questa tourne con conseguente disco e poi finito finito il tutto la pfm mi mi convoca mi dice noi ti vogliamo con noi ma come membro permane stabile nel gruppo e come dire di no ok sono qua ci sono e si va avanti insieme abbiamo siamo andati avanti parecchi anni insomma prima di avere poi c'è stato uno scioglimento del gruppo poi nel 2002 c'è stato un ricongiungi loro non nel 2000 mi sembra si sono rimessi insieme ci sono un'altra volta senza violino c'era da partire per il giappone e i giovani no io non ero non io in realtà facevo altro all'epoca e si era richiamato però però sempre per questo discorso che si è sempre un po uniti in qualche modo loro avevano fatto i primi 22 album di questa reunion nel mio studio in questo studio il metropolis serendipiti sei due album erano e a quel punto ci incontriamo e mi dicono che i giapponesi hanno richiesto dei concerti a osaka e tokyo e che però volevano la psm col violino e quindi mi dicono vieni con noi in giappone va bene perché no come potevo dire di no vengo in giappone abbiamo fatto questo live in giappone un disco molto bello fra l'altro dal vivo al club città si esatto a kawasaki si chiama kawasaki diciamo diciamo è una specie di città satellite all'interno di tokyo che è una città enorme e quindi kawasaki è una specie di quartiere molto grande e dove c'è questo bellissimo teatro che fra l'altro ha il nome in italiano non si sa perché per loro fa esotico come forse qua ci fa esotico scrivere un nome in giappone fra l'altro i giapponesi adorano la musica italiana e in particolare amano molto anche la musica progressive e la pfm devo dire ha sempre fatto moltissimi concerti in giappone la cosa che mi ha colpito in questo nel primo concerto di tokyo è stato che eravamo dietro le quinte e c'era un silenzio un silenzio tombale sono composti molti qualcuno ha detto ha cominciato a dire ma siamo sicuri che ci sono che c'è il pubblico saliamo sul palco altro che se c'era il pubblico il teatro era completamente pieno si sono alzati tutti in piedi e hanno fatto un applauso che io mi ricordo ancora oggi prima ancora di sentirci suonare un applauso che sarà durato poco meno di dieci minuti non scherzo questa è gratitudine io mi sono con io mi sono commossa era come dire un ringraziamento di vedere tornare la pfm che forse l'ultima volta era stata da quelle parti forse vent'anni prima adesso non è perché il tempo poi nel frattempo passa è stato proprio un saluto degli appassionati della pfm degli appassionati della musica italiana è bellissimo ho ancora questo ricordo di questa emozione che immeritata perché io poi non ero mai stato prima io ero appena mi ero appena rimesso dentro la pfm ma non avevamo mai suonato in giappone quindi comunque ho vissuto quel momento molto molto bello per non parlare poi delle file perché ancora all'epoca i biglietti si vendevano al momento le file erano interminabili fuori dal teatro perché arrivavano belli precisi due ore prima e erano interminabili queste file ovviamente teatri pieni grandissimo successo e tu sei entrato poi nella premiata a consuonare suonare che secondo me è un album di transizione ottimo perché ha degli ottimi brani infatti con flavio premoli ho espresso il mio piacere di ascoltarla che sono stati anzi siete stati in grado di fare la transizione come i genesis tra 78 all'ottanta con duke lo stesso vale per la premiata da jet lag a suonare suonare e invece l'ottantuno l'ottantadue che un anno un po nebuloso perché tanti come ti va in riva alla città secondo me è un disco di tutto rispetto con un approccio completamente diverso e anche pfm pfm che non tutti conoscono tu invece che ricordo hai di di quell'album che anzi di questi due album che non sono stati tanto apprezzati da dalla critica perché chi ha paura della notte che è un bellissimo brano che si avvicinava forse ad un pubblico di giovani ragazzi infatti fu usato il brano nel film iras del quartiere che ci sta benissimo di vanzina in quel periodo stonecaster studios che ricordo ai di quella transizione è una transizione che è stata non indifferente perché con suonare suonare eravate ancora pseudo prog pop con quello proprio siete entrati nel mainstream come si direbbe oggi non è semplice ricordare tutto quel tutto quel certo ogni album della pfm diverso dall'altro in particolare il suonare suonare c'era ancora premoli e quindi c'è una forte componente di amodi di tastiere un certo anche un certo uso della melodia nelle canzoni invece poi subito dopo con l'uscita di flavio abbiamo risentito un po di più diciamo di influenze diciamo dire straits police eravamo proprio orientati verso un rock più 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 nostrano mettiamola così quindi non sono associabili due album sicuramente come detto tu suonare suonare è un album di transizione e di transizione perché in quel momento così come tanti gruppi diciamo progressive hanno pensato di fare un cambiamento verso il pop come tanti altri invece hanno deciso di non farlo in italia però effettivamente e quel genere di 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 musica così complesso diciamo così rischiava di sembrare un po superato allora come da buona tradizione della pfm ogni disco era una sperimentazione un salto nel vuoto certo la reazione della critica sinceramente non me la ricordo ma anche perché non mi è mai interessata la reazione della critica secondo me il pubblico all'epoca ha reagito piuttosto bene perché questo lo vedi nei concerti nei concerti se fai una canzone che un brano che non piace non è che il pubblico te lo manda dire non so come dirti quindi comunque questa nuova pfm è stata è stata ben accolta anche perché comunque il patrimonio del lavoro fatto precedentemente non è che lo butti via però effettivamente si cercava proprio di fare un cambiamento c'è stato un primo cambiamento molto basato sul formato canzone e questo è suonare suonare poi si è cominciato a sperimentare un po di più sui suoni appunto del rock più genuino senza tante tastiere mi ricordo che io usavo una un'unica tastiera non si usavano fino a cp30 era quello che usano voi e anche il mug si cercava di proprio di fare un cambiamento di non usarlo però poi inevitabilmente nei vari album successivi poi sia non abbiamo potuto evitare per esempio in capitani coraggiosi di usare tutte le tastiere del momento perché in quel momento poi le tastiere hanno uscivano come funghi erano diventa se non c'era la tastiera no non potevi esistere quindi abbiamo vissuto varie varie fasi e ogni volta abbiamo affrontato i cambiamenti con come dire con il solito spirito come dire creativo e anche un po di ricerca un po pionieristico sempre questo io chiedo scusa perché ho visto che c'è stato qualche problema di connessione però niente tutta posta che mi stanno facendo notare ecco il bello della diretta però niente siamo ancora qui connessi un'altra cosa lucio invece l'attività perché tu dopo pfm continui come arrangiatore anche hai fatto delle collaborazioni non indifferenti fino poi ad arrivare anche a ad essere parte importante di x factor ecco tu cosa ne pensi di questi io li definisco talent ma è il termine corretto siccome tu hai fatto gli arrangiamenti c'era la band anche con roberto guardi alla batteria che poi è il tuo resident drummer al metropolis tutti i personaggi di una caratura cosa ne pensi tu ad oggi lucio che tu hai vissuto x factor era più interessante l'inizio quindi quando c'eri tu o pensi che magari questi talent natura non so che un po scontata però mi piaceva affrontare con te anche questo punto dato che l'hai mai vissuto tu facendo degli arrangiamenti di tutto rispetto guarda io sicuramente intanto ho fatto ho curato quasi tutte le edizioni di x factor perché è solo dal 2020 che non me ne occupo più quindi ho ho vissuto la crescita di questo di questo format sicuramente guardo con un po di nostalgia alle prime edizioni perché nelle prime edizioni c'era tanta musica c'era solo musica poi progressivamente ma questo è tipico un po dell'edizione italiana perché x factor in realtà teoricamente dovrebbe essere molto basato sulla musica e sull'interpretazione dei concorrenti invece in italia si è cominciato a guardare un po alla come dire l'aspetto estetico la le scenografie però dato che sono cose che non mi competono io ho sempre continuato a lavorare con lo stesso spirito iniziale quindi diciamo che la 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 bella occasione che 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 mi è stata data è frutto anche se vuoi della presenza di di un morgan all'inizio che che mi spronava e quindi c'era sempre questa voglia di fare degli arrangiamenti un po diversi e quindi di non fare le cover uguale per cover si intendono i brani rifatti e si è sempre cercato finché c'era lui e siccome abbiamo iniziato praticamente insieme lui era uno dei giudici e io il direttore musicale si è sempre cercato di personalizzare quindi a seconda della personalità del dell'interprete del concorrente si cercava di di cucirgli un vestito musicale particolare che poi in quando è stato quando l'interprete è stato all'altezza è servito molto io credo che il nostro lavoro per esempio prendi uno come marco mengoni e il lavoro è stato non indifferente visto i risultati che ha ancora oggi così come lo è stato lasciare totale libertà ai maneskin di fare come volevano loro e come volevano loro era la cosa giusta anche se apparentemente sembrava una cosa non dico controcorrente sembrava una cosa antica rifare il rock con tre strumenti che poi invece è quello da cui siamo un po nati tutti e poi evidentemente avevano avevano qualcosa di particolare però non c'è stato mai il l'esigenza o come dire l'idea di farli cambiare semmai l'idea era quella di mettere i concorrenti in grado di esprimersi ai massimi livelli naturalmente non c'era più da lavorare come arrangiamenti con i maneskin c'era da lavorare al minimo cioè c'era da prendere quello che loro facevano e mixarlo nella maniera giusta mettere gli equilibri portare i giusti equilibri sonori a seconda della canzone che si voleva fare ecco appunto il mainstream perfettamente sono concorde con te su tante cose sui maneskin ecco è un rock che non apprezzo però piace molto in termini di arrangiamento io ho un ricordo bellissimo di un ragazzo che non mi viene più il nome era della scuderia castoldi e avevi fatto tu un arrangiamento l'aveva cantata benissimo per me quello è la caratura di un ragazzo che canta di un brano degli anamparson project time che è molto difficile perché è cantata da eric wolfson cioè bisogna avere gli attributi però come l'ha fatto questo ragazzo non mi ricordo il nome del cantante si era sentito proprio il vostro tocco sia di morgan che il tuo perché è un brano non facile da rendere sì 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 beh ma lo ricordi abbiamo no adesso in particolare non mi ricordo perché se ti dovessi dire quante centinaia di canzoni abbiamo realizzato era come se ogni settimana si realizzasse un album della portata di serge and pepper tanto per far capire la differenza tra un arrangiamento e l'altro sono stati sono stati degli anni molto come dire concitati i frenetici come realizzazione quindi a certe volte nemmeno sapevo chi doveva cantare il brano mi veniva descritto magari da morgan facciamo una cosa di questo genere perché così otteniamo questo prendiamo un brano che in un modo lo arrangiamo in quest'altro modo quindi adesso mi sfugge però no no è molto bello perché il problema è proprio questo che essendo stati molti concorrenti non tutti hanno avuto la fortuna di farsi conoscere farsi apprezzare per il loro valore perché la televisione effettivamente ti 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 macina un po e quindi non è detto che quelli che adesso hanno successo siano gli unici bravi erano molto bravi anche molti altri che in realtà poi non sono riusciti magari a bucare dal punto di vista anche dell'immagine probabilmente bravo bravo lucio questo è una ascoltavamo la musica in radio ascoltavamo la musica certe volte solo perché andavamo a comprare dei dischi con una copertina in cui non sapevano che faccia ci fosse dietro e quindi quando ci si mette di mezzo il video effettivamente o tu hai delle idee fantastiche come le può avere avuto michael jackson oppure no dipende da quello che riesce a trasmettere anche dal punto di vista video e il video effettivamente toglie tanto toglie tanto allo spazio sonoro per cui quella canzone video chiede video chiede radio star di baggles ecco con lì dietro trevor on che aveva già capito tutto emblematica emblematica però ecco quello che hai detto mi fa molto piacere ti fa onore perché è la caratura della tua preparazione perché quello che non hai detto è solo il mainstream hai hai detto tanta gente non è stata fortunata però questo è l'elevazione della persona sia uomo che compositore come te ci fai fare un breve tour del metropolis che mi è interessante vediamo e se riesco a fare questo quello che puoi lucio dimmi cosa vedi allora in questo momento noi siamo nella regia magari tu mi puoi dire cosa vedi vedo il monitor certo lì c'è il banco di messaggio piccolini che vanno ovviamente digitale per cui ormai certo a tutto usando un motorizzato pro tools abbiamo questo invece sono gli outboard che sono gli effetti che invece effettivamente sono gli stessi che si sono sempre analogici qui ne vedete gli altri caspita poi abbiamo una sala macchine di qua ci sono tutte le cose che però è buio in questo momento non sono non lì ci sono tutti i vari server di vari esatto perché qui c'è un silenzio totale quindi certo abbiamo assolutamente bisogno di restare in una stanza dove non c'è non ci sono rumori poi qui c'è una tastiera qui c'è un altro sintetizzatore che è un art 2006 caspita mai ancora mai prova vintage tu lucio di sint certo io sia come chitarre che come nove come sint direi che lui e basta e avanza è più vecchiotto sì sicuramente è uno strumento degli anni settanta adesso questo che per me è un grande è sempre stato un po la mia mio desiderio di avere praticamente adesso ti accendo le luci e dalla regia io mi sposto direttamente nella sala musica dove si suona certo sarà di ripresa per cui di solito negli studi devi uscire rientrare da un'altra parte invece io ho fatto in modo che praticamente non so se da qua si vede qui sono nella regia se praticamente sembra di essere in un'unica stanza perché certo c'è il vetro e la porta di vetro adesso io entro qui vedi un po di sedie perché c'è appena stato un'orchestra poi abbiamo rimontato la batteria siccome ti vedi gualdi certo molto ferrato sull'argomento è stata rimontata perché ieri l'abbiamo dovuta togliere per registrare l'orchestra questa è la batteria di roberto gualdi questo è un pianoforte quindi ovviamente gli strumenti in uno studio diciamo di questo tipo gli strumenti sono quelli veri quindi è certo porto è vero non le tastiere questo è un organo questo momento è spento il leslie che serve poi abbiamo un piano burlitzer qua poi bellissimo supertramp questo c'è la vision vari amplificatori no no ma vedi no no ma basta questo guarda è uno studio bellissimo qui c'è un box qui c'è un marshall che il modello che usa eric lepton ah caspita esatto tutto selezionato come deve essere giusto esatto e poi ci sono le chitarre che tu non vedi ah c'è anche questo questo è il mio primo amplificatore guarda questo è un fender pro reverb degli anni sessanta caspita sì che ne hanno rifatti tante volte ma questo è un originale si vede si vede anche perché vissuto è un po vissuto ecco quindi hai visto poi un'altra cosa molto importante adesso è sera però abbiamo anche una meravigliosa finestra sull'esterno così quando c'è il sole entra anche il sole caspita è una cosa da poco perché di solito negli studi devi devi sacrificare le finestre perché ovviamente devi avere tutto come dire riparato non puoi avere i riflessi del sole sui monitor insomma ci sono delle esigenze precise la dico grossa lucio l'hai strutturato un po alla heavy road perché anche heavy road aveva la vetrata vabbè dovevi scendere dalle scale però sì sì qui è più comodo però qui è più comodo perché diciamo se anche uno ha bevuto un po non deve fare tutti quei gradini non cade perché è in piano poi rispetto ad heavy road infatti abbiamo le stesse casse quelle che vedi lì dietro sono dello stesso modello che da heavy road quello perché è lo studio di riferimento insomma sicuramente lo studio più avanzato che c'è sicuramente sicuramente ecco siete rimasti gli unici a milano perché logico non c'è più purtroppo poi un fratelli è morto però lucio che dire c'è un artista a tutto tonno tu lucio proprio cioè mi auguro di incontrarti dal vivo ancora perché sei una persona gentilissima generosa non mi mai capitato di di aver avuto un tour così ti ringrazio ti ringrazio e basta che tu ti faccia vedere i prossimi concerti adesso in questo momento non stiamo facendo concerti perché abbiamo appena finito un tour che ha avuto un grande successo con la pfm però prevedo che in primavera riprenderemo e ci incontriamo guarda se mi capita di passare da milano a me piacerebbe la butto qui direttamente fare anche una chiacchierata con roberto gualdi proprio guarda era qui l'ho appena mi ha mandato via perché gli ho detto guarda che adesso voglio restare da solo per essere concentrato a saperlo ti avrei fatto ma no ma no se ci sarà l'eventualità perché parlare anche con lui guarda ti metto in contatto sicuramente lo farà molto volentieri fra l'altro lui ha anche lui una sua struttura quindi senza necessariamente farlo venire fino a qua perché lui non abita a milano tipo ti può fare un collegamento dove dove lui ha naturalmente quei strumenti la sua batteria tutto dove dove si esercita tutti i giorni ecco lucio sei stato gentilissimo ancora ti auguro un 23 pazzesco anche a te di fare tante belle interviste ancora e di anche un augurio a te come batterista visto che sei un batterista grazie 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 ancora adesso vediamo si dovrebbe muovere qualcosa in pentola ma non parliamo per per scaramanzia per scaramanzia benissimo però detto da te porterà fortuna e c'è speriamo ok lucio grazie ancora o a tutti quelli che ci hanno seguito grazie ancora ciao 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 ciao